Siamo con Renato Bissi, allenatore dell'Under 13 Elite ABC. Quali sono le cose buone e le cose meno buone di questa partita? Dunque, le cose buone è che abbiamo cercato di giocare di squadra. Infatti, se avete visto, abbiamo perso alcuni palloni perché siamo andati oltre i 24 secondi, ma perché ci siamo imposti in questa partita di provare delle soluzioni giocando come gruppo, come quintetto. E quindi questa è la cosa che mi è piaciuta. Altre cose, invece, ancora aspetti tecnici particolari come la ricezione, come se devo scappare o devo andare verso la palla, sono tutti discorsi tecnici che comunque dobbiamo continuamente migliorare. qualche contropiede è stato fatto bene, che ci sono mossi in 4 o 5, quindi devo essere contento. Poi vabbè, abbiamo vinto, quindi meglio di così va bene, dai. Prospettive per questo Giro Nebronzo? Prospettive per questo Giro Nebronzo? Io sono sempre stato uno con i piedi, diciamo, per terra, forse ancora un passo indietro. Mi piace vedere le squadre quando le incontro e poi dare un giudizio. Le prospettive nostre è di cercare di essere sempre comunque un gruppo che va in campo, determinato, e che ogni partita se la giochi. Provare a giocarcele tutte queste partite, provare a vincerle se possibile, però giocandocele e non subendo gli avversari. Grazie, alla prossima partita! Ok, ciao!